Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video da Monopoly Softair Shop. Oggi parleremo di attrezzatura tattica e in generale come fare in modo che la vostra buffetteria, il vostro tattico, le vostre cinghie, le vostre cinture, la vostra radio, i vostri occhiali protettivi, la vostra maschera protettiva funzionino tutti insieme in un ecosistema ben bilanciato come una dieta che si rispetti. Ovviamente non sarò da solo ma ci sarà l'incredibile, ineguagliabile che darà una mano sia con le riprese e condividerà parte della sua incredibile esperienza tattica nel settore. Bando alle ciance ovviamente prima di partire, sigla! Ovviamente non potrò rimanere vestito così ma mi dovrò cambiare mettendomi da so tutta la mia attrezzatura tattica che vi permetterà di vedere come tutto si interseca, si incastra in maniera perfetta e per farlo abbiamo ideato un modo molto simpatico. Potere del cristallo di luna! Quanto è 2012 questo tipo di cose? Bene, quello che andremo a fare adesso è vedere un po' dei punti più cruciali di come impostare un setup, come far sì che ogni parte del nostro equipaggiamento funzioni tra le altre. Prima cosa importantissima, la replica. La replica lunga, il fucile, è essenziale che sia utilizzabile in maniera semplice, corretta e veloce. Questo significa che, punto uno, dovete sapere dove andarlo ad agganciare e come fare in modo che vi resti addosso. Una roba essenziale è una cinghia, come potrete immaginare. In questo caso io ho una cinghia che può essere andata ad aprirsi e chiudersi come la maggior parte del cinghia a due punti, mi permette di stare perfettamente in puntamento e allo stesso modo di andarla a chiudere, bloccarla a me e passare alla replica corta, se ne ho la necessità. Qui attaccato di fianco ho anche una cinghia a un punto, nel caso io me la dimentichi la cinghia a casa o semplicemente voglio utilizzare un sistema che faciliti il cambio spalla e questo è essenziale. Parlando di cinghia abbiamo parlato di fare la transizione tra replica lunga a pistola. Una cosa essenziale quando parliamo di arma corta e di transizione non è solo avere la possibilità di agganciarci questa addosso o fare in modo che non si muova per poter passare la pistola, ma è anche avere un sistema di fondine comodo che permette un'estrazione pulita e non avere della roba in mezzo alle balle. Una roba che vedo fare molto spesso è mettere delle cose in questo punto del cinturone che vanno poi a impedire o rendere più difficile un'estrazione pulita e comoda. Io adesso anche senza guardare, benché non perfettamente riesco a rincastrare la pistola all'interno della fondina, sono sicuro che non salti via ed è molto comoda. Non entraremo nel merito di tutti i dannatissimi tipi di fondine che si possono utilizzare perché ci sono già tanti video che abbiamo fatto anche noi, vi lascio linkati in descrizione, però mi raccomando la pistola deve essere ben salda sul fianco in modo tale che non salti via, non vada da nessuna parte e soprattutto deve essere facile da estrarre. Pistola e fucile sono molto interessanti e non entreremo nel merito di come si customizzano il resto, fateci sapere se volete un video super dettagliato su queste cose, ma adesso si parla di cinturone e plate carrier perché vedo della roba da follia là fuori. Prima di proseguire, sfidone che vi propongo, mandateci su Instagram o Whatsapp, trovate tutti i link in descrizioni, le foto dei vostri setup completi come ve l'ho mostrato io prima. Ci serve perché faremo un rate my setup, daremo dei voti a come avete setupato le cose e discuteremo di come in Italia ci vestiamo e siamo tattici. Mi raccomando ci bastano delle foto complete, ci sono gli esempi su Instagram, vi basta di inizi a seguire là, vi attendiamo numerosi. Partiamo con l'elemento più semplice, ovvero il plate carrier. Il plate carrier è composto da una tripla, se è stupla o quello che vi pare, porta caricatore frontale per la replica che state utilizzando in questo momento, nel mio caso sono caricatori da 556, finti 556, per piattaforma AR15. Subito di lato troviamo la radio, qui di fianco non tengo praticamente nulla. Nella parte posteriore ho un admin pouch con sotto due pouch porta granate e qui di lato abbiamo la tasca utility, dove tengo dentro un po' di robe, tra cui anche la bandolina per segnalare quando sono colpito. Non mi soffermo sulla parte frontale perché mi sembra abbastanza la palissiano, tripla porta caricatori, vi serve per trasportare le munizioni per la replica principale. Quello che è interessante e vedo sbagliare spesso è questo, ovvero avere la possibilità di comunicare il radio in maniera intelligente avendo un PTT in questa posizione è essenziale. Sarebbe essenziale anche avere la radio in una posizione comoda. Io qui ce l'ho di fianco e non magari qui di lato giusto comoda qui davanti perché giocando in urbano non ho bisogno di andare a spipolarla più di tanto. La setta inizio partita la metto dentro e sono tranquillo. Se giocate in boschivo consiglio di metterla magari qui di fianco, viene un pochino più comodo. Ad ogni modo perché metto il PTT qui in alto e non lo metto magari qui dove ci sono apposta gli attacchi porta PTT? Molto semplice. Quando sono in puntamento con la destra non ho problemi, ma se io, come adesso ho il microfono, voglio cambiare spalla vedete che o vado a smontare il microfono oppure vado a demolire il PTT. Motivo per cui lo tengo qui un pochino più in alto, riesco comunque ad accedervi e attivarlo senza dover mollare nulla in maniera comoda. Non è comodo quanto avevo lì davanti ma riesco a fare un cambio spalla perfetto e non rischio di spaccarlo. Notate come sono incredibilmente comodo benché abbia tutta questa attrezzatura tattica addosso? Sapete perché? Perché l'acquisto da Monopolisoft Airshop, link in descrizione. Mi permette non solo di acquistare le tasche perfette per agghindare tutto il mio setup, ma anche di trovare i migliori accessori tattici, militari e anche per il software. Monopolisoft Air, link in descrizione. Sono comodo così anche perché ho settato correttamente il mio plate carrier, il mio cinturone, in modo tale che essi riescano a lavorare perfettamente senza che si vadano a incastrare i pezzi. Vediamo come. Prima cosa importantissima, quanto deve stare in alto il mio plate carrier. L'idea generale è che la piastra davanti, perché ovviamente questi sono dei portapiastre, plate carrier, deve stare leggermente sopra i polmoni, leggermente sopra l'ombelico. Dovrebbe proteggervi sostanzialmente gli organi principali, quindi dovrebbe stare a questa altezza. Una cosa che però vedo fare molto spesso non è tanto aver settato o sbagliato questa piastra davanti, in modo tale che stia o troppo sul davanti o sul gollo, ma quella posteriore. La piastra posteriore deve avere questo spazio qui, indipendentemente da quanto piccolo o grosso sia il vostro tattico, in modo tale che voi vi possiate muovere e andare a chiudere, anche lateralmente, senza che ci siano delle cose che si vanno a incastrare tra di loro. Esempio che vedo in continuazione. I portacaricatori per la pistola. Vedo spessissimo che molta gente ha i portacaricatori della pistola settati male, che vanno a strusciarsi contro delle tasche o dell'altra roba attaccata sul plate carrier, e questi o saltano via o perdete i copricazzoli, i fondelli dei caricatori. Senza parlare del fatto che voglio capire se avete il tattico completamente sopra qua, come fate a estrarre? Perché io riesco a estrarre perfettamente, ma nel momento nel quale ho della roba qua devo andare a cercare quello che mi serve. Ecco, l'idea generale per riassumere un po' tutto questo è che ogni cosa sul tattico deve essere accessibile. Non è pensabile che ci siano elementi che sono accessibili quando magari usate solo cinturone, e che quando invece usate cinturone e plate carrier diventano inaccessibili. Perché ovviamente non ha senso, non riuscite a giocare e vi incazzate. E ci sta. Cinturone molto semplice, io ne ho uno grosso perché gioco in urbane, quindi mi risulta un po' più comodo. Attacco cintura cobra con anche l'anello per potersi attaccare ai veicoli, quindi potete andarci ad agganciare anche il cavetto bello bello come bello come bello. Due portacaricatori claw gear, mi fanno impazzire, anche se costano un pochino più di tempo, ma ne vale a mio avviso la pena. Sono perfetti per estrarre i caricatori e questi si bloccano all'interno. Un portacaricatori da 5.56 della Templars gear che mi permette di trasportare comodamente colpi ulteriori. Tasca porta flashbang della Templars gear, sempre sono leggere, pesano poco e riescono a tenere perfettamente al loro interno quello che mi serve. Tasca esausti Templars gear, sempre queste sono veramente molto comode. Sono perfette per metterci dentro caricatori esausti e nel caso la vostra dignità se l'avete persa in campo. Vabbè, qui ho una tasca porta manette su cui ci soffermeremo una prossima volta. Tasca porta granata frammentazione claw gear è vuota perché l'ho tirata. Porta tourniquet con tourniquet vero perché sì, non c'era bisogno ma l'abbiamo fatto lo stesso. Fondino che si attacca nella cintura che ho sotto questa qua. E infine questo tendenzialmente è un porta sigarette. Io ci tengo le chiavi dello stelvio. In conclusione vi voglio dare un consiglio che va a mettere d'accordo un pochino tutti. Questo ovviamente è come io setto la mia attrezzatura in funzione e in base alla mia fisicità. Come potete vedere io sono alto un metro e 94 per 84 kg di possenti muscoli e questo tipo di setup funziona con me. Ovviamente ci sono persone più alte, più basse, sono persone più tozze, più magre. Ognuno di voi deve ascoltare e vedere come l'attrezzatura gli cade addosso. Prima di trovare un incastro come questo per giocare ovviamente in urbano senza avere nessun tipo di problema potendo utilizzare tutta l'attrezzatura ci ho messo un po'. Quindi la cosa essenziale è testate la vostra attrezzatura prima di andare in campo e vale per qualunque cosa. Occhiali, cappellino, fucile, mappe se dovete muovervi. È essenziale sapere e avere pronte le cose prima. Questo vale un po' per tutte le cose nella vita tra l'altro. Cioè alla fine è tutto questione di prospettiva, non trovi? Non trovo. Ovviamente fateci sapere nei commenti cosa ne pensate del mio setup di quello che ho fatto. Se avete delle critiche da fare fatele gentilmente perché sennò soffro e mi metto a piangere. Il che non è divertente da vedere né da subire. Il discorso della fisicità è molto importante in realtà. Ad esempio mi viene così sulla punta dell'unghia. La cappella. La differenza dei cinturoni. Io uso un cinturone PT5 che è molto molto più sottile di quello che usa Red. Banalmente perché sono un po' meno alto di lui quindi la distanza tra le mie spalle e il mio bacino è minore. Non posso permettermi di utilizzare un cinturone molto largo. Perché sennò sfrigolano. Sennò si va a incappare nell'errore che abbiamo detto nell'altro video di evitare. Quindi di far prendere contro l'equipaggiamento che c'è sul cinturone o quello sul tattico. Ma vale poi per tutti i vostri componenti dell'equipaggiamento. Quindi mi raccomando anche solo mettervi in camera vostra, provarlo, provare a estrarre ogni singolo pezzo che compone il vostro setup in situazione di stretch. Cioè nel senso non fare fare dei drills, provare le ricariche. Ma tiro fuori il caricatore. No, cioè provate davvero a cambiarlo. E vedere se tutto risponde come deve essere per il vostro corpo. Torno a dire che se volete aggiungere qualcosa, chiederci dei consigli, trovate sia il nostro Instagram che Whatsapp. Non abbiate paura di iscriverci su Whatsapp per avere consigli o farvi consigliare determinati prodotti che siano adatti a voi. Siamo passati tutti da lì. Vi ringraziamo di essere arrivati a questo punto del video. Vi ricordiamo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e guardare degli altri video. L'algoritmo di YouTube ci premia e premia anche voi facendovi vedere i contenuti che vi interessano tramite questo. Quindi più video guardate, più ci aiutate. Consigliateli ai vostri amici. Uno mi ha scritto l'altro ieri, ho fatto vedere i video a mia nonna. Dice che sei simpatico. Sono là, sicuramente buoni gusti. Vi ricordiamo di mandarci le foto del vostro setup e di venireci a seguire su tutti i nostri altri incredibili canali. Inoltre vi ricordo di dare un'occhiata al canale secondario dove potete trovare altri contenuti sempre relativi al mondo tattico e dove questo lunedì troverete la sfida dove provo a fare la challenge per entrare nella SWOT, sfida fisica. Finalmente arriva la primavera, vi abbiamo portato in questo luogo all'aperto, ci diverte anche a noi, fateci sapere se altri contenuti così vi possano interessare. Vi ringraziamo di nuovo e come al solito... Stay angry! Adesso mi cambierò e per farlo abbiamo indovini... C'è, insomma, è... Wow, è... Pro! All'inizio! 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 Grazie.